E buongiorno a tutti! Sì, eccovi ritrovati a Quelli delle 12. Io sono sempre Crissing e oggi purtroppo come vedete c'è una sedia vuota anche se forse, forse, forse si riempirà entro la fine della puntata. Un auguri a Giadina che è sicuramente più coraggiosa di me per i dottori. Ma ricordiamo un pochino questi appuntamenti di noi che siamo quelli delle 12, anzi ricordiamoci che quando sono alle 12 è l'ora di vedere quelli delle 12 alle 12 di giorno e alle 12 di notte. Il lunedì per esempio potete divertirvi con fumetti, manga, serie televisive in compagnia con Mr. X e Bremol. Invece il martedì ci siamo appunto io e il grande capo con il cappellino. Mentre il mercoledì abbiamo il capozzi con la musica e le classifiche iTunes. E il giovedì un grande appuntamento con registi, cinema e tv con la grande Roxy Rox. Mentre il venerdì si parla di sport con i nostri Leonardo e Amedeo. Ma oggi è una puntata un pochino particolare perché dato che mi hanno lasciato un attimino sola mi voglio un attimino divertire a parlare di quelli che ci hanno lasciato e che sono andati via. Diciamo quelli che ci hanno lasciato un segno negli ultimi anni. Non voglio tornare troppo indietro perché abbiamo comunque soltanto un'ora. E dato che comunque il martedì è il giorno dei personaggi vogliamo parlare di qualcuno di grande per esempio come Prince. Ricordiamoci che ci ha lasciato poco fa e quest'anno come tanti ci stanno lasciando ultimamente. Cioè è un martirio veramente. Ma stanno cadendo giù come Margherite. E invece noi ci rimane Gigi D'Alessio. Va bene ma questo ovviamente è un mio punto di vista. Comunque Prince Rogers Nelson noto anche come il nome d'arte di Prince e ne ha cambiati un sacco nella sua vita. È nato a Minneapolis il 7 giugno del 58. Mentre il nome Prince viene appunto dal gruppo di suo padre perché anche suo padre suonava in una band che si chiamava Prince Rogers Trio. E la vena artistica del cantante che era polistrumentista, regista, compositore, produttore lo portava a fare in continuazione delle canzoni, a prodursele totalmente in proprio. E cosa che tanti non si aspetterebbero, Prince è stato il primo tra i pionieri della vendita online su internet di musica. Infatti se andate a cercare per esempio Purple Rain non potete trovarla su Youtube perché almeno non in versione chiara e limpida, heavy insomma. Poiché la canzone come tante altre di Prince sono acquistabili solamente ed esclusivamente tramite il suo sito. Andate pure a vedere o andate pure a cercare se la trovate Purple Rain. La trovata non so come ha fatto Leonardo ma penso che l'abbia comprata dal sito dato che ha comprato anche la mia musica. Anzi se volete farvi comprare delle canzoni scrivete a Leonardo in privato che lui compra la musica, almeno non la scarica. Uno ci è rimasto finalmente che sa fare le cose a modino. Comunque parliamo di Prince che nel 2004 ha ricevuto la grandissima nominazione da Rolling Stones che l'ha inserito nel 27esimo posto nella lista dei 100 migliori artisti di sempre. Infatti per tutti gli anni 80 e 90 è stato diciamo il pioniere del rock. Come è nato diciamo il suo successo? Diciamo che è nato perché Prince come sappiamo tutti lo riconosciamo comunque con Purple Rain. Purple Rain è una delle canzoni che non si trovano su Youtube, tutti quanti conosciamo eccetera, ma è anche l'ammonimazione di un film che l'ha portata ad avere in successo per 25 settimane di fila la sua canzone prima tra i singoli, prima per colonna sonora e prima come album. Per 25 settimane di fila, questo record era riuscito soltanto ai Beatles prima e non per 25 settimane. Quindi è un record mondiale e dato che un pochino ho guardato un po' di là, ho guardato un po' di là e alla fine vi volevo fare sentire proprio questa Purple Rain perché è il suo simbolo, è il suo marchio. Per cui andiamoci a vedere Purple Rain, questo è Prince, a voi. Per cui andiamoci a vedere Purple Rain, questo è un po' di là, ho guardato un po' di là. Purple Rain, questo è un po' di là, ho guardato un po' di là, ho guardato un po' di là. Purple Rain, questo è un po' di là, ho guardato un po' di là, ho guardato un po' di là. Purple Rain, questo è un po' di là, ho guardato un po' di là, ho guardato un po' di là, ho guardato un po' di là. Purple Rain, questo è un po' di là, ho guardato un po' di là. Purple Rain, questo è un po' di là, ho guardato un po' di là, ho guardato un po' di là. Purple Rain, questo è un po' di là, ho guardato un po' di là. Purple Rain, questo è un po' di là. Purple Rain, questo è un po' di là, ho guardato un po' di là. 없어, bitteュè. Ronkgistro. unseren po' di là, ho guardato un po' di là. çünkü this è un po' di là, ho guardato un po' di là. Grazie a tutti. 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 Yeah... Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. , come on. . . . . , come on. , come on. , anche lui, , come on. 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 , , come on. , , come on. , come on. , come on. , , come on. 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 , come on.